Buongiorno, buongiorno signor, buongiorno mestruciccio Buongiorno a me che cosa posso servirla oggi? Allora oggi voglio 5 euro di vongole, però non come quelle della volta passata che erano piene 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 di sapo di sapo, 5 euro di vongole, non ci voleva chiedere niente la sdraia l'ombrellone, vuoi pure la cabina, vuoi pure la testa, la buona ammè Grazie 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 Grazie